Non ho più, ecco, Michela grazie ancora, Miss Michela, un altro applauso per favore. Grazie. Giorgio Conso. Eh ma l'hai fatto tre volte, grazie. Vabbè, dico qualcosa anch'io, visto che tutti hanno parlato, dico una cosa al volo, tra l'altro prima di un brano che ha alcuni passaggi testuali che mi toccano particolarmente. E' un po' come nella fratellanza, insomma, tu cosa dovresti dire nel momento in cui c'è un'emozione fortissima che tocca a un tuo fratello, di solito fai anche lo schivo, insomma, tra fratelli si litiga spesso e volentieri, non è che si va così d'amore d'accordo. Ma il mio silenzio cela un'emozione incredibile perché so quanto Mimmo ha voluto questo momento, quanto lavoro ci ha messo e devo dire la verità sono così contento che tutte queste parole e questi suoni stiano prendendo forma. E poi lo fanno con un ensemble meraviglioso. Grazie. 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 con il contegno composto di vecchi sottoscala. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove finisce tutto e comincia il resto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.